Matteo Moretti riconfermato presidente del Polo della Cosmesi di Crema, una rielezione la terza per la precisione avvenuta all'unanimità. Era stata presentata una sola candidatura durante l'assemblea dei soci convocata al ristorante Nuovo Maori di Crema. Un'assemblea che aveva un ordine del giorno piuttosto corposo, oltre all'elezione del direttivo anche l'approvazione del bilancio. In base al consultivo il Polo ha all'attivo oltre 434 mila euro con sensibile incremento operativo e si chiude con un utile d'esercizio di 42 mila euro. Con un patrimonio di 106 mila euro il Polo potrà chiedere il riconoscimento come associazione. Una realtà sana che in tre anni e mezzo ha visto passare le aziende associate da 49 a 65. Nove le new entry presentate oggi, ma a breve, si dovrà fare spazio a nuove richieste di ingresso. Il presidente Moretti ha illustrato il piano strategico del prossimo triennio con alcuni obiettivi ambiziosi come la costituzione del cluster e di una scuola che formi personale altamente specializzato per le aziende del settore, soprattutto per il packaging e le formulazioni cosmetiche. Altro tema importante è la futura partecipazione a Cosmopraf 2019 che rappresenta la principale voce di bilancio. Si chiederà una più corposa presenza della collettiva del Polo alla Fiera Internazionale. Confermata poi la terza edizione dell'Innovation Day che sarà il primo di novembre con una formula nuova che mixa workshop, conferenze e presentazione delle aziende innovative. Infine è stata presentata la rivista del Polo che avrà cadenza semestrale.